Oggi ho una partita importante, gioco la semifinale di doppio, mi trovo qua a Istanbul, gioco contro Klain e Roloff, uno è australiano e uno è sudafricano, non ho mai giocato contro, solo sono testi serie numero tre, credo sarà una partita abbastanza difficile perché gioco tutti e due sono doppisti abbastanza bravi, servono bene, si muovono bene, quindi sarà una partita tosta, speriamo di vincere, questa è una semifinale, io e il mio compagno Neocrist la prima volta che giochiamo insieme, vedo che ci troviamo molto bene, abbiamo vinto con la tua, è il primo turno, è una partita molto bella, ieri un'altra lotta contro Mektic e Weger che non li conoscevo e oggi ci toccano questi, speriamo di fare bene, lui il mio compagno gli serve bene, ha un bel servizio, ha rete pure molto veloce, ha una bella potenza di palla, quindi speriamo di fare una bella partita contro questi due. Per quanto riguarda me, io ho deciso di interprendere più, di focalizzarmi diciamo più sulla carriera di doppio da tre settimane a questa parte, quindi anche se andrò avanti in doppio deciderò magari di non giocare alcune quali, alcuni challenger, anche se comunque sia attività di singolo continuerò a giocarla in questo frangente di tempo finché la classifica me lo permette. Ciao a tutti, volevo fare un saluto a Crione.